Ragazzi, che vi devo dire? Era successo circa tre mesi fa che avevo fatto un video dall'auto. Perché? Perché mi trovo in viaggio e la mani mi ha chiamato dalla Cina e ha detto Gianni, sono arrivate le batterie a Milano, alla nostra warehouse, al nostro magazzino. E poi fare un video, gli ho detto guarda io sono in viaggio, torno fra qualche giorno e le mi fai come facciamo adesso, gli ho detto guarda ti faccio il video, quello che avevo fatto in promozione, ci sono le batterie a Milano, così almeno gli amici del canale che vogliono acquistare le trovano. Ora ragazzi, eccomi qua dopo tre mesi a farvi lo stesso video. Ebbene sono in viaggio e mi sto portando anche quattro celle, mamma mia 5 kg sono pesanti, mi sto portando quattro celle della Yves perché là dove devo andare, insomma, voglio regalarle, voglio dargli da questa persona, un amico del canale carinissimo. E allora su chiamata dalla Mani mi sono fermato, come dicevo in questo parcheggio. Ragazzi, la Mani al magazzino di Milano ha l'offerta delle celle della Calb, della Yves, come queste che avete visto, e della Rept. Sono tre tipologie di batterie, ovviamente tutte di grado A, quindi massima qualità. A tal proposito ragazzi ne approfitto in questo video per dirvi che quando comprate celle, è chiaro che voi dite come faccio a verificarle, non è sempre possibile, perlomeno chiedete, perlomeno analizzate, perché della Yves ad esempio ci sono grosse aziende che vendono la Yves ma hanno celle vecchie, sono celle già dei lotti precedenti e che possono avere anche due o tre anni, quindi valutate un attimo se avete batterie nuove. È anche vero che le celle, se non vengono utilizzate, non hanno un autoconsumo come le Piombo, però sapete, insomma, celle di due anni fa che hanno una capacità di 280 circa, ma meno, è sempre meglio prendere le Yves nuove che hanno una capacità da 280 ma di più. Quindi vi ricordo una cosa fondamentale ragazzi, la Mani testa tutte le celle singolarmente, quindi quelle che vi consegna sono già testate sia in capacità, e cosa importantissima che non dovete più fare a casa vostra, è la prima equalizzazione, cioè il primo bilanciamento. Vi ricordate tutti i video che ho fatto e insieme andavamo a bilanciare le celle, ovvero tutte in parallelo posizionate con l'Anmatec, il caricabatterie, ovvero l'alimentatore stabilizzato posizionato a 3,60 e lì dovevano restare 15 giorni, 20 giorni a riempirsi e bilanciarsi. Ebbene, questo lavoro lo fa già la Mani, quindi vi sta vendendo delle celle che sono già bilanciate. Ragazzi, risparmiamo non la corrente perché insomma alla fine riempiendo un pacco di batteria da 16 celle abbiamo 15-16 kWh circa, non è che abbiamo succhiato tantissima corrente da casa, però è un lavoro di 15-20 giorni che ci risparmiamo, quindi comprare celle già bilanciate è sicuramente un servizio Mani importante. Le celle sono controllate singolarmente, quelli che già hanno comprato, le migliaia che hanno già comprato della Mani hanno visto quale serietà contraddistingue questa azienda che ho scelto su questo canale. Dicevo una cosa sulle batterie della Mani, lei mi ha detto per telefono che sia stata un'oretta, perché mi ha fatto tutta una sintesi, innanzitutto i prezzi non li dico, lei mi ha detto guarda fai chiamare qua e diamo tutte le informazioni del caso. Come funziona? Sotto qua adesso lo monterò in macchina, questo breve video che uscirà fra un'oretta, non lo so. Sotto trovate il link, il link è il link della Mani, il sito di Alibaba, quindi voi entrate nella finestra del sito di Alibaba e sotto c'è scritto chat, ebbene la chat è parlate con loro, messaggiate con loro, a questo punto fate tutte le domande che volete, quanto costa, le capacità, i cicli, perché i cicli sono tanti, a secondo delle batterie ci sono le IV che sono 6.000 cicli, poi ci sono i 9.000 cicli, delle Calb e le Rept 6.000 cicli, quindi avete batterie longeve che a 10 anni ritrovate ancora dentro l'80% se le trattate bene, ovvero scaricate fino al 15% e caricate fino al 90-95%. Tutto il resto delle informazioni le trovate come al solito sui video che faccio costantemente e settimanalmente. Una cosa importante, in tutte queste batterie la Mani ha deciso di mettere non più i busbar che si usavano, quelli standard, che sono di alluminio, ma usa i busbar di rame, quelli che vi ho fatto vedere tempo fa, cioè sono i busbar quelli morbidi, fatti di micro lamelle e poi sono brasati sulle estremità. Ebbene questi busbar sono molto conduttivi e dissipano, il che significa che fate impianti veramente dove avete i busbar freddi, che poi chiaramente se i busbar si vanno a scaldare, come quelli artigianali, in alluminio, quelli sottodimensionati, vanno poi a scaldare anche le batterie. Quindi busbar freddo significa mantenere tutto il pacco batterie freddo. Quindi ci sono questi busbar. Vi dico una cosa importante, adesso mentre faccio i montaggi al volo così metterò anche qualche sovrimpressione che vedrete, che descrive quanto sto dicendo anche a voce. Questi busbar la Mani ha deciso di venderli anche separatamente. Quindi se avete già un impianto e volete migliorarlo, potete chiedere a loro anche io voglio i busbar quanto costano. Chiaramente lì ci sarà da aspettare un po', perché mi diceva guarda, li sto spedendo dalla Cina, quindi questi arrivano in settembre inoltrato, primi di ottobre, quindi dovete avere un po' di pazienza. Però non sono più, ragazzi, i tre mesi che ci mettavamo, quattro mesi, vi ricordate, qualche anno fa. Adesso veramente anche i trasporti sono molto molto più veloci. Ebbene ragazzi, questa è l'offerta di questo mese. Il settembre parte con la Mani, con il prezzo giusto, con le batterie di Grado A, resistenza bassa. Insomma ragazzi, quando vi dicevo entrate nella chat di Alibaba, voi parlate con la Mani. Yal Lam, che è la direttrice molto disponibile insieme ai suoi ragazzi, vi risponde in maniera sempre cordiale. L'avete visto anche nei messaggi quanti stanno comprando e quanti feedback positivi. A questo punto pagate sempre a loro attraverso Alibaba, che fa anche da garanzia sul pagamento. Quando avete pagato decidete voi se farvele spedire dal magazzino di Milano e ci vogliono tre giorni lavorativi reali, quindi in brevissimo tempo vi arrivano a casa. Se abitate invece in Lombardia o volete dal Veneto, insomma se siete vicini alla Lombardia e volete andare a ritirarle, Piemonte, Emilia Romagna, mi vengono in mente queste regioni così vicine, potete andare al magazzino di Milano a ritirarle, sempre pagamento sul sito, poi vi mettete d'accordo con loro, dopo di che vi danno l'indirizzo e ritirate da Milano. Ragazzi è stato un messaggio automobilistico fatto al volo, spero lo gradiate, sono quelle offerte da prendere, le batterie non sono poche ma non sono tante, quindi ogni volta che faccio un video sparisce tutto, quindi non voglio ovviamente spingere nessuno a comprare. Intanto cominciate a chattare, cominciate a chiedere, cominciate a vedere la convenienza, la qualità, se volete ritirarle, se volete farvele consegnare e ragazzi ci vediamo al prossimo video, buona giornata. Grazie a tutti.